Eccola la vera estate, con la zanno carriera Frate non è un'estate se non faccio la carriera allenatore su FIFA Cioè veramente, veramente rottura di coglioni senza la carriera In realtà speriamo di fare una carriera coi controcazzi E una carriera soprattutto che ho voglia, capito? No non so parlare, lascia perdere, durete sonno regà, non ci fate caso, scusate Nome Damiano Cognome Erfaina Lui fa dei cognome Erfaina poi mi raccomando Nazionalità Te lo dico off stream E mo se fa la creation d'Erfaina su FIFA 21 ragazzi Damiano Erfaina è pronto Mo tocca capire il team regà La Roma purtroppo ammette ilta troppo Cioè fatto che sia Roma FC mi fa proprio un cazzacco come una Iena Una bella che si potrebbe rifare è l'Atalanta L'Atalanta è figa Ve dico quelle che c'ho voglia eh Bologna no Cagliari no Rodone no A Fiorentina no Ergenoa no L'Inter troppo forte A Lazio col cazzo Per Milan assolutamente sì Milan è una delle mie preferite Il Napoli se potrebbe fa però il Napoli è veramente tanto forte su FIFA Non mi va di essere troppo facilitato capito Il Milan fa ufficialmente schifo soprattutto su FIFA se parliamo di FIFA ragazzi ovviamente non va piata male Per Parma mi ha ispirato non so perché mi sono sentito ispirato potrebbe essere una carriera simpatica col Parma eh Finchia no mi fanno tutte cagare Ragazzi è tipo la mia scelta delle tre va su Atalanta Milan e Parma Volendo resta in A perché voglio resta in A che è da una vita che non la faccio in A Il Parma sta volando Vabbè lo sapevo che il Parma Non lo so ma ha toccato i gingilli il Parma appena l'ho visto è suonata è suonata la campanellina strana E sto eccitato in realtà Allora il fatto è comunque 10 milioni in più ce fa in cazzo Però so comodi 50 milioni in più So troppi porco sio Una cosa pulita era fa un 30 milioni in più Il Faina se sa che c'è là un po' dei sordi da parte Fa per sondaggio Fammi vedere quanti sordi devo investire col Parma Ammazza 50 milioni ma così tanto mi è stato affan vestito Nesta società se poi vinco lo scudo 50 milioni Per i lavori nazionali Cazzo il Faina non lavora per i nazionali Stadio Ma che è? Vabbè ma questo c'è sta Stadio classico Lo chiami A fantastico Il fantastico Con due F con due O però Il tardini Il tardini pure c'è Il tardini sta bene Il tardini a posto Do sta Bam Il Faina 1 Fammi vedere la squadra va Vabbè ti dirò In realtà Qua c'ho dei giocatori che mi sconfinferano La Cipria porco sio era giovane 6 anni fa 25 anni ormai è vecchio fracico C'ha l'età mia c'ha Vabbè La fascia destra è a posto La fascia destra è a posto Caramo è man My man Bravo my man Bravo Vabbè pure conti te dirò mi va più che bene 26 anni ma va benissimo così Miele valenti Oh miele valenti Comunque 70 rated 21 anni Ne manco male eh Inglese 28 anni Kurtich 31 Rivoluzione Guarda Zirkis E dove sta Ecco qua 19 anni 3 3 1 e 93 Buonissimo Questo qua secondo me come sa benagrema Cornelius e Pelleio Gli farei pian volo Ma poi che è sto modulo No switcher modulo Che modulo usamo? Ieri ho deciso tra 4 2 3 1 Quello con gli esterni Che è un modulo che in carriera mi piace sempre usare Oppure i 4 3 3 Gli alterni semplicemente 1 4 2 3 1 Arsi al massimo Arsi un pochetto così capito Allora sepe 29 anni 77 rated E te dirò Ora è Gigi Buffon Più che altro voglio andare a vedere Quali giocatori c'ho in prestito Miele valenti sta in prestito Bani sta in prestito Ah regà Darmiano recuperamo Vendemo Che dite? Porco zio Ma pure la Cipria in prestito Oh Caramò è nostro Se gode subito Gervinio sta in scadenza Certo che non metta la fascetta Gervinia Una bestemmia Porco zio Almeno mette gli attaccatori Dei capelli sulla nuca Cioè ma che stai a fa' Mamma mia C'ha pure il Game Face Con il 17 Ma questo era il giocatore mio Porca troia In prestito Regà Possiamo contattarlo Per acquistare ragazzi Il fatto è che Se lo compriamo Se lo compriamo Dopo un anno Sicuramente cresce E ci costa un sacco di più Perché mi sa Che è un bel giocatore Lui dovrebbe cresce Sì ma quanto costa? Lieto di vederla Tocca farti i rex Però non si devono trigger Offro due Due e sei Tre e sette Ok Mo' possiamo ragionare VM incontro Tre Dai Bono Stiamo a trattarlo Allora dai Mi fido di voi Che voi sicuramente Ci giocate Seppiamo Naga c'è Pepe Seppiamo Vuole 11 e mezzo Con 100.000 euro Di ingaggio Il Sio Le do 12.500 Per Gli elevo 100.000 euro E ammazza Già abbiamo fatto Il primo acquisto Bene regà Inglese 28 anni 73 rated Lista trasferimenti Cornelius Lista Anstan 3 Impresti Allora Pelebre vende Via Procati Se vende Subito Laurì Vatta Piando il culo Allora Piamo subito GG Buffon Ma come Non puoi contattare Un giocatore Che vuole ritirarsi Comunque Il piano crescita Dei giocatori C'è ragione C'è Anzi Ti tiro di più Più che altro Lo do Adesso Al signor Zirk Io lo do subito Secondo me Immobile Perché almeno Gli arsa Un po' Ste stats Pure la resistenza Un po' Moncas Che ho messo Si Caramo Piano crescita Qui c'ha 4-4 Mezzo Ah si Famo 5 De skill Lo famo Lo famo Prima alla destra E poi dopo Switchiamo A pezzella Gli possiamo dare Un piano di crescita Gli damo Un laterale difensivo 7 settimane A me no Laterale difensivo Che cazzo Mi frega Ti come stai 3D debole Urlo dello sbocco Totale No te te becchi Subito alla invertita Ammazza Che cartina Alla destra Già può giocarci Perché è esterno Alla destra Vedi Se lo trasformassimo Alla sinistra A lui Perché No Secondo me A destra E meglio Man Perché Man è mancino A rientrare Robben Fallo alla sinistra Va E maiala Come lo famo Cresce Porco zio Ma quanto corre 3D skill Sbocco E becchi subito Regista largo E' vero Lui c'ho 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 E' però 25 settimane Fini il campionato Senti famo una cosa Famo prima regista largo Che so 6 settimane Almeno gli alziamo Gli alziamo le skill Le skill E poi E poi gli dai il c'ho 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 E poi gli dai il jepcock E' arrivato quel momento Mi servono giocatori Gioveni Mamma mia Che bello Musiala Rega Tra l'altro la recistoria 21 milioni Porco zio Però secondo me E' devastante Questo qua si può un attimo Mettere là Xavi Simons Che bello che è Xavi Simons Ma c'è Cazzo si Oh cazzo A 4 milioni Lo famo cresce a stecchetto E' carino Lo usi come turnover Azi Isaac Bello Isaac Cazzo Però Isaac Secondo me Se lo fanno pagare Kakache Kakache Solo per nome Liberato Kakache Vabbè ragazzi Preso Mi è stato a consigliare Il signor Raspa Non vedo potenziale Però Vritz Eh come vedi Vritz è figo Ah Vritz Che cazzo Mi ha scritto Qua R prima Si opera Florian Vritz Ecco qua Eh magari Lui Lui però Secondo me Costicchia Però lui sarebbe bello A centrocampo Sarebbe godurioso Ha degli Emi A me questi Mi piacciono Quando li vedo Così belli fomentati Mi fomentano Poi c'ha la faccia Carismatica Secondo me C'ha un bel potenziale Questo Guardiol No c'ha la faccia Da coglione Non mi piace Secondo me Fa passare tutte Mi sembrava un po' Fazio giovane Eh bastoni Ma magari Ma costerà Un fracco Tommy Chiasu Lui c'è sta Lui mi piace Ah Lokonga Non puoi seguirlo Porco zio C'è da C'è un po' Moriba Che foto strana Bafonta Mamma mia Non avete capito Quanto è difficile Ecco qua Camal Bafonta Interessante Minchia Mione 3 Ma raga Mione 3 Che vuol dire Che è 60, zio porco Caruccio Mamma mia Se lui va preso, regà Lui non me ne frega un cazzo Va preso, regà Questo qua è game face, addirittura 4-4, figo Ma regà Gravenberg è il sogno del centrocampo del Parma Però il Faina ci vede lungo E sa già che gli ha la famo L'unico giocatore che non voglio vende No, rifiuta, assolutamente No, col cazzo che voto Ma chi se lo fila, no, no, no Simula va Te dirò Per ora mi conviene giocare con questa squadra così Anche a meno giocano cc Lo stesso palla goloso Non c'è piano il contropiede Non c'è piano il contropiede da qua Non c'è piano il contropiede da qua Bello lo scambio Mamma mia Pelle Se lei mi fa bestemmia pure solo a vedere porco zio E il palletto nel gioco Vabbè È la quinta palla È la quinta palla che perde dentro l'area dei rigori La quinta Bello Bello Dov'ha No, quattro atti Mi hanno offerto 3.500 Quattro e mezzo Tuzia Quattro e due Buono come il pane Ufficio sei Che me dici? Oh, ci abbiamo qualche resoconto, regà Potremmo andare a vedere due prezzi Allora, Simon sei un 65 Non so quanto Abbia di potenziale Però potrebbe essere simpatico da far crescere Signor Raspatori 64 20 anni Va bene qua Per il signor Circhi nel grano Che c'ha 5-5 Vogliono Un cazzo 71-16 anni Può giocare a trequartista Questo piamolo easy Dentro subito Dentro Guarda Dentro Onesto A 4 e mezzo Dentro Si Si Boom Rimuovi subito Scambio giocatori Di negozio Offerta del cartellino Do Te ne do 5 5-4 Più il 4% Di clausola Rimuovi la clausola Pari vendita 5-4 Fuck Go back Che dirò Meglio un mio Ne oggi Che 10 domani 6 milioni E 6 cillamo Dovevo accettare 5-4 Mmm 19 anni 71 rated Si può giocare cdc 25.000 a settimana A 19 anni Questo è quando compri Delle squadre inglese Mortacci loro Degli sordi che c'hanno Contattamo Va ci proviamo 4-4 Gli imbocchi Sempre easy Ancora Non te lo tolge Il figlio Te ne do 5 Te ne do 5 Stavo a posto 5 per lui E GG 5-8 Che ne pensi Di 5-4 A metà strada Se incontriamo Buono come il pane Capirai Questo Più è una fracca No Trattava Ah si Son T-Rex Son T-Rex Clamoroso Lasciami Per De stipendio Ah si Per non ricevere Rotture De palle De stipendio Gli dai 30.000 E viene E ci sta sicuro Perché lui Pià 25 bombe Pià al momento 28 Bravo Così mi piace 28 Buonissimo L'inglese è venduto Per lei è venduto Inaccettabile L'offerta Ma per 300 Cioè per 300.000 Ci hai dovuto pensare Accetta La porco Sì Accetta Andiamo a trattare Quanti soldi Pià questo 7.000 Andiamo Per 300.000 Ci ha dovuto pensare Famo se sta caccio e pepe Vaffa culo Cazzo No 8 Buonissimo Oh sprocati 1.500 Bello Campion Simulazione veloce 2 a 0 Per noi 2 a 2 Passamo Non so se passamo Ma sa De si No Oh Siete pronti Ai golosi acquisti Musial È un 74 13 barra 21 milioni Tu sia Simons ok Isaac 80 50 milioni Chong Sta bene qua Allora Van Drongelen 21 anni 70 rated Però dopo Porti a casa 3 milioni e mezzo Kakache Vabbè Kakache pure Potrebbe essere acquistabile Madonna Quanto costa Wirz Il sogno Gravenberg Si allontana Portacci Quanto costi Oh Ma stai scherzando Faccio uno scopo A me Fammi Riaggiungere Imparo Dei rischielli Questi Mamma mia Quanto costano Daka lo conosco Capito che dite Daka potrebbe essere interessante Trattiamo un prestito Voglio vedere come Non me la Cioè un prestito Con diritto De riscatto Famo 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 Un prestito Con diritto De riscatto Mi sembra una soluzione pratica Siamo felici di Di cedere il giocatore In prestito Con diritto De riscatto Dal prezzo giusto Facciamo un prestito I sordi ovviamente Ci levano poi Facciamo un prestito De due anni Col diritto De riscatto Buah Un anno Vabbè Accetto un anno Dobbiamo dividerci le spese Per gli stipendi Di Musiala Credo che 60-40 Sia una soluzione Per entrambi i club Ma sì Ma che cazzo Me frega Va bene Offerta per il cartellino 11 milioni e mezzo Con la clausola Di rivendita A 4 Ma che scherzi Ah sì Io c'ho Gravenberg Che chiama il mio nome Come fa mappia Gravenberg Come fa mappiallo Ma che gli do Ma pure Ernani Ma che cazzo Me ne frega Ernani 18 milioni Porco zio Faccio il T-Rex Faccio il T-Rex Ah raga Sono scesi De 100 mila Eh la clausola È alta La clausola A 20 milioni È tantissimo Ma è quella Che abbassa il prezzo Se levo la clausola Mi chiedono 30 Secondo me Ma infatti Ma quando Vendo a questo Cioè questa È la vera domanda Ma che cazzo Ce frega Ma quando Vendo io Au 21 21 e 100 Tiè mi piace Come numero Indicata Grazie dei tre È scesa Se il Decento Ancora eh Dai oh Sì 22 Paolo Cannone E se abbracciamo Anzi tiè Non ce voglio credere Non ce voglio credere Regà Stanno memando Non basta Ma è rotta il cazzo Vai Vai fai Vai fai Gravenberco Cruciale Zio Pera 5 anni Ma fanno pure Una ventina Se te va Ok Va benissimo Modo Ma sono i sordi A CP Ti do I 6k Delle iene Più un bonus Di ingaggio Di 17.000 euro Appena arrivi Dici che è troppo rischioso Ah regà no Non me piscia Trastate Ah regà no Non me piscia Trastate Sì no infatti A sto punto Famo così Dai sti cazzo Ti do 41.869 euro E ti do 9.500 In this case Matthias You can say Me coglioni 20 go Ma sì ma Quando cazzi Fai 20 go Ma che me frega Porco zio Sei de goccio Accetto Mi hai rotti i coglioni Mamma mia Gravenberco È arrivato